BIM o Building Information Modeling è uno strumento fantastico per la progettazione architettonica. Purtroppo molti credono che il BIM non sia alla loro portata, questo perché un passaggio dal disegno 2D al BIM può sembrare difficile e costoso. Inoltre BIM significa un nuovo processo e nuove operazioni che dobbiamo imparare da zero. Le nuove norme e i nuovi requisiti possono sembrare troppo complicati da seguire. La nostra mission con Arcline è aprire le porte al BIM. Arcline consente il passaggio dal disegno 2D al BIM passo dopo passo, che accompagna dal 2D alla modellazione 3D e all'introduzione di parametri BIM all'interno del tuo processo di lavoro. Condividi i tuoi progetti con altri professionisti senza sforzi. Il software ti garantisce di poter utilizzare le tue competenze CAD, i file ed i progetti per rimanere competitivo. La porta è ora aperta a nuove opportunità e traguardi prima non raggiungibili. Arcline è un BIM autoring tool certificato IFC e non sono necessari altri plugin per completare il tuo lavoro. Lavorerai in collaborazione con le altre parti dell'industria delle costruzioni con continuità, evitando incomprensioni, utilizzando prodotti reali, collaborando come mai prima. BIM sta diventando velocemente lo standard. Assicurati di esserci con Arcline.